Intanto degenerò il rapporto perché a un certo punto Dario aveva bisogno di una scena molto forte di lei e lei non riusciva proprio a dare quello che Dario voleva e mi ricordo Dario si incazzò molto con lei, gli urlò proprio i properi, ma gli ha detto ma fatti una pera d'eroina, ma almeno mi dai qualcosa, porco di qua, porco di là. Credo che questa cosa lei l'abbia comunque segnata e abbia in quel modo lì deteriorato il rapporto, arrivando al finale quando lei doveva recitare nelle ultime scene in Svizzera dove era sequestrata dall'assassino e Dario voleva probabilmente qualche attenzione sexy, nel senso di avere comunque una camicia bianca, ma vagamente trasparente e lasciare intravedere qualcosa per il gusto dell'occhio, ma anche il gusto del bello poi perché comunque era una bellissima ragazza e credo che lei si rifiutò platealmente e decisamente disse no, io la maglietta sotto non me la tolgo e a quel punto Dario come giustamente si è incazzato per bene.